Questo programma è presentato da Arena, Mia Arredamenti, Pavi System, Sambao Brazilian Sushi, Quirino Gabrielli, Big Mat, Per Te Assicurazioni, Agenzia Top, Unipol Sai. Grazie a tutti. Buonasera da Pierpaolo Flammini, ventisesima puntata di Ritmo di Samba in diretta tutti i martedì alle ore 20 su Vera TV, tutto sulla Samba, un'ora e mezza dedicata ai colori rosso-blu e questo è un momento davvero molto delicato del campionato. Si viene dalla sconfitta sfortunata, inaspettata, possiamo aggiungere tutti gli aggettivi che vogliamo, contro il notaresco di domenica scorsa, domenica sera al cuore di calcio. Siamo stati letteralmente sommersi dai messaggi, forse un centinaio, ovviamente non li ho contati, arrivati dai nostri telespettatori, vi chiediamo di inviarli anche oggi per suggerire degli spunti di riflessione. Samba è al 392-944-1132 e comunque la Samba è a meno 5, nuovamente a meno 5 dal capobasso, a 7 giornate dal termine, quindi un momento fondamentale a dir poco, in attesa ovviamente poi di aprire degli sconti diretti con l'Aguila, il terzo di classifica, poi col capobasso il 14 di aprile. Affronteremo i tanti temi che ovviamente sono in discussione in queste ore a Sammetto, la ripresa degli alleamenti con due tifosi doc, abbiamo con noi Giacomo Valentini, che torna qui forse all'inizio del campionato, è stato già nostro ospite, e per Luigi Cipolla, altro tifoso rosso-blu di passione, di grande passione. Buonasera a tutti. Buonasera, andiamo nella fase finale della trasmissione, poi come al solito daremo spazio anche al settore giovanese, sarà con noi ospite Renato Mannocchia, allenatore dei giovanissimi, insieme a altri ragazzi. Andiamo subito a vedere i risultati della 27esima giornata, c'è stata appunto la sconfitta della Samba 2-0, ma tra l'altro nei minuti finali come è spesso avvenuto, 42 secondi dopo attraverso il martinello è arrivato il gol del notaresco. Fano capobasso 1-1, il Fano di Manoni ha bloccato la capolizia capobasso dopo una serie di vittorie consecutive, la Vezzano ha battuto la Matese, ultima in classifica, prossimo avversario della Samba. Forse Pornese, Chieti 0-1, Roma City, Vigor Steningaglia 1-1, la Samba abbiamo detto, Sora che ha battuto l'Aquila, però va detto questa partita per l'Aquila molto sfortunata, due pali, molte occasioni, però una battuta d'arresto che potrebbe mettere fine alle ambizioni di primo posto dell'Aquila. a Tivoli, a Tatico Ascoli 1-1, Riccione, a Monterotondo 0-1, Bastogirardi, Termoli 1-1. Vediamo la classifica, Campobasso 57, Samba 52, L'Aquila 49, Vezzano 46, Notaresco 43, Senigaglia 42, Roma City 41, Chieti 39, a Tatico Ascoli 35, Forse Pornese 34, Sora 33, Riccione 31, Termoli e Tivoli 29, Motortondo 28, Fanno 24, Bastogirardi 22 e Matese 21, appunto tra l'altro il calendario, settimana prossima, domenica, mette a confronto la Samba a Matese contro l'ultima, in Capobasso, invece ospita Vasto Girardi, penultima in classifica. Prima di aprire con il doppio passo di Michele Natalini alcune informazioni, come dire, alcuni approfondimenti, cominciamo con la vignetta del nostro Rossano Cocchieri, una vignetta che strappa risate a mare. Il campionato in un minuto, con un punto interrogativo, vedete qui, un minuto, anzi meno, 42 secondi, si arriva dalla traversa di Martimiello, un tiro scoccato al 42esimo, da 7 metri, una grandissima occasione, ce ne erano state anche altre in precedenza, contro piede è arrivato il gol del Notaresco. Ma oggi anche la pezza del papà e anche la Samba, tantissimi post, diciamo, sui colori rosso-blu, sulla frase di, ecco qui, di padre in figlio, lo stendardo che campeggia in curva, quindi un augurio anche a tutti i papà rosso-blu. Proponiamo anche un disegno, sono giorni importanti anche per la storia della Samba di Etese, perché si sta procedendo alla demolizione dello Stato Ballard, qui sono delle immagini, appunto, la demolizione anche della Curva Sud, fatto che è stato comunque contestato da almeno parte della tifoseria nei giorni scorsi, anche nei mesi scorsi, e abbiamo ricevuto un disegno da parte di un bambino, Valerio, proprio sulla curva del Ballard, ovviamente a 9 anni, ecco qui, Valerio che disegna una curva rosso-blu con la ruspa, quindi è un segnale comunque di una storia che viene tramandata anche a chi, come Valerio, ovviamente al Ballard non c'è stato mai, l'ha soltanto visto dal di fuori, però è un bel disegno, testimonia, però la passione che davvero di padre in figlio si tramanda a San Benedetto e dintorno. Non so se è pronto il servizio di Michele Natalini, se no fa qualche istante il doppio passo di Michele Natalini, coinvolgo intanto i nostri ospiti, la domanda che faccio a secco è questa. 5 punti di svantaggio, 7 partite alla fine, il campionato secondo voi è finito, cominciamo da Giacomo Valentini. Il campionato non è finito, certamente il campo basso ha più probabilità di vingere il campionato, però nel calcio sappiamo benissimo, anche perché diciamo ci siamo passati anche noi dalla Samb che si decide all'ultimo momento. Luigi? Ma guarda, stesso discorso anche per me, secondo me è un campionato difficile, perché comunque anche le squadre che stanno ultime possono ancora salvarsi e quindi di conseguenza tutto può succedere, anche domenica prossima il campo basso giocherà in casa con il vasto Girardi, partita sulla carta facile. Il campo basso quando c'è per Golizzi in casa pareggiava solo quella 3-4, soltanto vinto. Soltanto vinto, quindi comunque un bel ruolino, però spesso, anche domenica comunque il campo basso a Fano lo davano favorito. Potevamo stare, noi, cioè, in 42 secondi è cambiato tutto. Esatto, noi voglio dire, oggi poi lo vedremo anche nel servizio, sono state anche un po' di contestazioni alla Samba Village a Stella di Monsampolo, ovviamente il clima alla fine della partita di domenica scorsa non era, qui vediamo alcune immagini della vittoria del campo basso, il gol di Grandis dopo 3 minuti non era dei migliori, però il calcio, come si dice spesso, è fatto di episodi. Noi oggi potevamo stare qui a parlare della grande rimonta al campo basso, probabilmente impaurito da questa Samba che portava a due punti con il nuovo allenatore, poteva, cioè cambiava tutto in un minuto, però razionalmente la partita può cambiare in un minuto, a volte i campionati possono cambiare in un minuto perché i due punti e i tre punti persi in quel modo potrebbero essere decisivi, questo noi non lo sappiamo, però non può cambiare il mondo in tre minuti, questo che intendo. Ad ogni modo vi volevo leggere subito alcuni messaggi, uno tra l'altro è per il signor Cipolla, poi lo vedremo, Marco Romani ci scrive subito, Marco Romani che saluta tra l'altro per Luigi Cipolla, Marco Romani che avevamo intervistato di ritorno da Fano perché è andato a vedere la partita appunto Fano capo basso, è il tifoso che omaggia oramai da qualche settimana, tutte le settimane Massi con un corno, portafortuna o antisfortuna, magari la dotazione forse dovrà aumentare ancora di più, visto quello che è successo domenica scorsa, Marco Romani ci scrive questo, buttare la colpa anche su De Angelis e Fanesi che sono sammetesi chi più chi meno lo trova eccessivo, tante squadre spendono milioni eppure fanno dei flop, non è facile creare una squadra tutta nuova, errori si ne hanno fatti ma per me è in buona fede, del resto siamo secondi in classifica, il più grande errore che si fa Sammetto è che si creano grandi aspettative, avanti io ci credo ancora, adesso bisogna essere ancora più uniti, saluto a Pierogi Cipolla che sotto il cortiere della vecchia casa di Via Toscana ha visto il grande calcio, adesso questo non so, comunque ti conosce, siete d'accordo? Perché il problema poi oggi vedremo anche le immagini, qui rivediamo la traversa, ti viene da spalancare ancora le braccia, io domenica quando abbiamo trasmesso le immagini della partita, alla fine mi sono chiesto come è stato possibile che la Samba abbia perso questa partita, per 60 minuti non ha giocato, poi ha avuto 3-4 occasioni grandi, quando la Samba, poi ne parleremo, ha messo i giocatori al posto giusto, o quasi tutti i giocatori al posto giusto, non c'è stata partita, il Notaresco è quinto in classifica, cioè per 20 minuti il Notaresco non ha capito nulla, poi è arrivato quel gol. Questa classifica, e poi vi ricordo anche un altro dettaglio, poi fra poco andremo al doppio passo, siamo a meno 5, a 7 giornate alla fine, la Samba di Palladini nel 2013 era a meno 4 a 5 giornate alla fine, però in quel periodo non si rispirava questo clima che c'è in questo momento a San Benedetto, c'è un clima disfattista, certo a meno 4 a 5 giornate è un risultato pesante, però si era convinti di potercela fare, perché secondo voi c'è questo clima dopo domenica, se si è creato questo clima un po' complicato? Luigi? Ma guarda, i motivi possono essere tanti, magari quel campionato comunque con Palladini è stato un campionato comunque diverso, perché siamo stati sempre sotto a terra, quasi sempre secondi, a volte sembrava che potevamo riprendere, poi siamo ricalati, quindi quest'anno forse il grande rammarico è stato il fatto che nel giro di andata effettivamente io personalmente ho visto una bella Samba, siamo stati comunque meritatamente primi in classifica, fino alla partita di Campobasso si può dire? Andiamo a vedere intanto il doppio passo di Michele Natalini E' una pellicola molto rosso-blu di fibrillazioni, di eccessi, di porte che potrebbero aprirsi, ma in 42 secondi si chiudono di botto, dalla traversa di Martigliello al primo gol del notaresco, 42 secondi dalla prospettiva di schizzare a meno 2 dal Campobasso, fermato a Fano su 1-1, alla realtà di scivolare di nuovo a meno 5 dalla venta, come a metà gennaio dopo Tivoli, due mesi in fumo in meno di un minuto, ne serviranno 5 invece a Vittorio Massi per dire di tutto e di più prima di lasciare il Rivera delle Palme per mandare al patibolo la squadra. Il papà rosso-blu parla da primo tifoso a caldo, forse troppo, giubordate anche in dialetto, nel frattempo raccontano Massi ha sbollito, video virale intanto, l'immagine che ne è venuta fuori dalle sue parole, però, non rende giustizia alla Samba, questa Samba, che dovrà crescere, certo, dovrà strutturarsi, di errori ne ha commessi, ci mancherebbe, ma non è una polveriera. Ecco, fissiamo qualche paletto, perché il rischio da quei maledetti 42 secondi in poi è di mandare in fumo non solo il campionato, ma molto di più. Siamo alla contestazione di domenica scorsa e alla parola della manciata di tifosi oggi pomeriggio a Samba Village, non dei dirigenti, loro in silenzio. Alla tentazione di considerare inutili le ultime cinque partite, incluso lo scontro diretto col Campobasso. Parentesi, promozione del 2013, la Samba di Ottavio Palladini a cinque della fine lamentava quattro punti dal San Cesario. Vinse senza il faccia a faccia a quei romani, sopra di tre. Undici anni dopo bisogna raccogliere i cocci di una sconfitta, la prima del 2024, la terza in campionato, la prima di mister Alessandrini. Serve scrollarsi di dosso, gli ultimi trent'anni, quelli sono lì. È il passato e chi c'è adesso non può scontarli. Lasciamo al suo posto pure il punto delle ultime due gare a Riviera, l'esonero di Maurizio Lauro e quest'altra deriva. È il resto via alle spalle, ricordando che un anno fa, esatto, la Samba di Roberto Rezzi batteva la vastese. In casa, a porte chiuse, gol di Cardella, salendo appena appena a quattro punti dai play-out, ma già spacciata fuori dal campo. E allora giù con un bel respiro profondo. Rezzi-Massi. Rezzi-Massi. Va già meglio, vero? Sono arrivati tanti messaggi, ma sono tutti spunti di riflessione. Noi non ci diamo indietro, ci diamo indietro solo quando il tempo ci impedisce di andare avanti fino a mezzanotte, all'una o ai due, perché a volte dovremmo fare una puntata solo per questo. Quindi voi scrivete, nel caso selezioniamo. Rezzi-Massi, Rezzi-Massi, i tifosi hanno memoria corta, però sono arrivati anche dei messaggi che poi ci stimoleranno. È sbagliato pensare a quello che era un anno fa? No, è proprio che è il punto nodale che dobbiamo tenere la barra dritta in questo momento, perché poi non è solo Renzi. Ne abbiamo passati tanti, anche prima di Renzi, di quel genere lì. Noi che parliamo solo di calcio, 5 punti, per 3 centimetri si fanno discorsi o altri, ma è sempre calcio. E qui San Benedetto, gli anni che si è parlato solo di calcio, sono meno di quelli che invece si è parlato di fideiussioni e tutte queste cose. Quindi teniamo la barra dritta, è iniziato un percorso che i tifosi vogliono che sia lungo, un di lungo periodo. Nel lungo periodo ci sono anche gli errori, ci sono gli errori, però la piazza, io penso, e ci sta anche la contestazione, non è che, io non sto dicendo che non ci deve essere una contestazione, c'è anche, è legittima, è neanche nel diritto di un tifoso fischiare a fine partita, o fischiare a ripresa agli elementi perché è deluso. Questo è chiaro, basta che si resti, diciamo, nell'ambito della civiltà, ecco, per non dire altro. Ci sta, però bisogna tenere presente un po' di tutto, tutta la situazione è che sei mesi fa, otto mesi fa adesso, diciamo ad agosto 2023 non c'era ancora certezza di San Mettese. è stato fatto tanto, cioè una squadra comunque che è protagonista del campionato, questo si chiedeva arrivare a questo punto, più o meno giocarsi la vittoria del campionato nelle ultime partite? Sì, sicuramente. Guarda, io ti dico, io sono uno di quelli che ha fatto l'abbonamento per primo quest'anno, e ho ancora l'abbonamento con la scritta San Benedetto Calcio, quindi per farti capire, è un progetto a cui io per primo ho creduto fin dall'inizio, e sinceramente sono molto contento che la cosa va avanti, logicamente sapevo che arrivavano momenti difficili, purtroppo adesso sono arrivati, secondo me bisogna guardare un po', bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno alla fine, perché certo se guardiamo a come stavamo l'anno scorso, veramente quest'anno comunque parliamo di calcio, questo è già una cosa secondo me positiva. Pubblico lo Stadio, leggo intanto un messaggio, anzi ne leggo due, leggo due messaggi diciamo che hanno tenore diverso, ma come si fa a contestare questa società? Però nessuno contesta la società, diciamo che magari finiscono il mirino, può finirci anche De Angelis, o in qualche modo qualcuno può contestare Fannesi, non la società, ma come si fa a contestare questa società? Ricordiamoci dove eravamo un anno fa, con il Presidente Massi, fino all'ultima partita, quindi restano un altro, scrive, Buonasera, ma che uniti Massi non era all'allenamento oggi, la spaccatura con lo spoletario è evidente, oggi noi tifosi abbiamo contestato verbalmente squadra e mister salute. Riguardo Massi, comunque era fuori per impegni di lavoro, e lo sapevamo già domenica, lo avevo chiesto tra l'altro in quell'intervista che ha rilasciato, si sapeva che oggi Massi non sarebbe stato all'allenamento, sicuramente la sua intervista ha fatto tanto rumore. Vi chiedo da tifosi, ha fatto bene o Massi a parlare dopo la partita? Qual è la vostra opinione? Allora, tecnicamente forse, diciamo, i panni sporchi vanno lavati a casa, però Massi è di San Benedetto, quindi io lo comprendo, lo comprende uno sfogo che dà uno di noi. Da tifoso. Che ne pensi per Luigi? Ma io ho la stessa cosa, guarda, io lo sfogo di Massi di domenica l'ho visto come lo sfogo mio a fine partita, esattamente la stessa cosa. Però forse il Presidente dovrebbe, qualcuno dice, il Presidente dovrebbe un po' di staccare. Quello sicuramente, perché comunque è vero, i panni sporchi si devono lavare sempre in casa, però ci può anche stare che, intervistato a fine partita, dopo una partita del genere, dove comunque, veramente, sei passato dal possibile gollo della svolta, addirittura a perdere la partita, lì intervistato comunque a fine partita, secondo me il sangue è il bolle, come hai detto tu, perché ci può stare, ci può stare. Poi dopo, certo, lui è il Presidente, quindi giustamente se lo fa un tifoso, ok, dopo se lo fa il Presidente magari. Per chiudere il discorso di Massi, o se posso dare un consiglio, davvero, l'abbiamo avuto qui la scorsa settimana, la trasmissione è stata veramente, un successo perché era trascinante, l'intervista, non so, ho avuto qualche decina, di migliaia di visualizzazioni, e devo dire, i tifosi, anche i tifosi di altre squadre, anche, mi hanno scritto i tifosi di Ascoli, tutti hanno apprezzato le parole di Massi, questa è una cosa che, io penso al 95%, al 98% di, favorevoli alle parole di Massi, però un consiglio, io se posso, Presidente, dopo le partite, quando, soprattutto quando si perde, non ci, ci rifiuti, vado contro i miei interessi, nel senso, faccia sbollire la rabbia, nei momenti più difficili, e poi magari, è meglio, perché può uscire sempre una parolina, magari, di troppo, speriamo che, la speranza, a volte, a volte, è successo, però, per paradosso, che Presidente, in momenti di contestazione, a volte, le squadre, hanno dato di più, hanno tirato fuori, quel crattere, che magari, è mancato, mi viene in mente, prima di tutti, quella samba di Colantuono, che, era una situazione, anche peggiore di questa, a volte, capita. Sì, io sono d'accordissimo, perché, quando ci sono giocatori, con gli attributi, che, secondo me, quest'anno, abbiamo una squadra, di ottimi giocatori, e con gli attributi, queste scosse, potrebbero, anzi, è probabile, che diano, una spinta, una scossa, uno stimolo, a, a, a togliersi, da questa situazione, a reagire, a una brutta situazione, insomma. Bisogna contestare, i giocatori, che devono giocare, e non giocano, forse, Barberini, non so. A Martinello, non mi sento di putare colpe, per il gol mancato, è uno dei pochi, che si danno l'anima, su tutto il fronte, in conseguenza, la lucidità, può venire a mancare, magari, gli altri, avessero il suo spirito. Il Presidente, ha fatto bene a rilasciare, quelle dichiarazioni, ora fuori, i mercanti del Tempio, chi non corre, i saccovodi, in tribuna. Ne sono arrivati, tanti altri, poi dopo, li leggeremo, intanto, andiamo a vedere, i gol, sul notiziario, sulla situazione generale, andremo a vedere anche, i possibili, i possibili cambiamenti, della formazione, gli uomini, che sono finiti, sul mirino, daremo anche, uno sguardo possibile, al campionato, e oltre, questo campionato, il confronto, che continua, comunque, col capobasso. Vediamo i gol, poi, per qualche istante. Grazie a tutti. 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 di spunti, adesso analizzeremo anche, diciamo, le questioni un po' più tattiche, un tifoso ci scrive, il Presidente ha fatto benissimo a parlare, altrimenti, qualcuno avrebbe detto, il Presidente non parla, e non vuole andare in C, infatti, il signore di prima, il messaggio che abbiamo letto, ha polemizzato, dicendo che il Presidente, oggi non c'era, quindi ha fatto benissimo, dice, questo tifoso, questo tifoso, Francesco, non sarebbe ora di cacciare gli attributi, Massi ha fatto benissimo a sfogarsi, pessima figura, arrivia domenica, sarebbe il momento di svegliarsi, un altro tifoso, le dichiarazioni di Massi sono state pesantissime, cosa vuol dire che i giocatori fanno presenza, grazie al volere dei procuratori, la formazione, la schiera, il mister oppure De Angelis, allora, sulla questione dei procuratori, ricordiamo, se è detto, non esiste, esiste proprio la figura del procuratore, in quanto sono direttanti, ad ogni modo, non l'interpretazione, quello che intendeva Massi, se viene ascoltata l'intervista, riguarda alcuni calciatori, che non sarebbero in forma fisica, però non, come dire, non lo esplicitano, perché i loro, rappresentanti, i loro consiglieri, gli dicono di raggranellare presenze, perché ovviamente, più presenze si fanno, se si segnano gol, più magari si ha possibilità di avere, il contratto per l'anno seguente, non era una pressione, sul direttore sportivo, e su allenatore, questo è ben chiaro, anche perché io credo che, tra l'altro, con Alessandrini, sia del tutto autonomo, nelle scelte, si sarà fatto consigliare, appena venuto, magari da Macinelli, o dallo staff tecnico, ma non che i procuratori fanno la squadra, sicuramente dichiarazioni molto forte, Max Sandaloni diceva, Giullino era buono, questa Samba, Bontà Paolini, invece calcio champagne, però io, magari, ci torniamo dopo il notiziero Samba, perché poi c'è anche una notizia, dell'entità, dell'infortunio di Bontà, su Bontà, su Paulini, su Fabbrini, che sono un po' finiti, al centro della contestazione, dopo la gara di domenica, che è giusto, ovviamente, certe prove, non sono state all'altezza, di quello che si riteneva, non dico che ci siano giustificazioni, ma occorre anche valutare, tutto quello che c'è intorno, affinché un calciatore, possa dare, quello che effettivamente ha, ed è stato preso, per dare qualcosa, che magari adesso, gli viene chiesto, in maniera diversa, ma ci torniamo dopo, adesso sentiamo, Michele Natalini, notiziario dal Samba Village. È una pellicola, molto russubbata. Dimenticare la brutta, domenica appena trascorsa, la Samba è ripartita, e lo ha fatto, nel clima più pesante, da inizio stagione. Sono volate, infatti, parole pesanti, all'indirizzo di Mr. Alessandrini, e della squadra, da parte della Trentina, di tifosi presenti, presente qui, al Samba Village, di Stella, di Monsampolo. Dunque, un inizio di settimana teso, con i volti tirati, da parte dei Rosso Blu, dopo la mezz'ora, e oltre di confronto, nel chiuso degli spogliatoi, tra la dirigenza, presenti la consulente esterno, Massimiliano Fanesi, il direttore sportivo, Stefano De Angelis, Mr. Alessandrini, e la squadra. Poi tutti in campo, alle 15.35, per iniziare questa settimana, come detto, in un clima non certo ideale, non era presente il presidente Massi, che domenica però aveva detto tanto, con quello sfogo durissimo, dopo lo 0-2 contro il Notaresco, Massi fuori per impegni di lavoro, squadra quasi al completo, fuori Battista, per l'infortunio alla coscia, rimediato contro il Real Monterotondo, e il centrocampista Montà, per l'infortunio più recente, quello rimediato, giusto domenica scorsa, col Notaresco. Solita settimana per la Samb, che poi sabato partirà in ritiro, per affrontare la delicata trasferta, di Piedimonte-Battese. Una Samb che, nonostante la tensione, nonostante il clima pesante, naturalmente non ha alcuna intenzione, di darla ancora vinta al Campobasso. La prossima partita, naturalmente, peserà tantissimo. Pesano sempre di più, perché i punti sono sempre meno, ci sono 21 punti a disposizione, quindi ogni partita può essere quella decisiva, nella situazione della Samb, perché se dovesse sbagliare qualche gara, il Campobasso ne approfitta, i giochi si farebbero chiusi. La Samb non può più sbagliare, perché dopo l'errore commesso domenica, in qualche modo bloccato dal fano di Manoni, che ha mitigato i danni per i colori rosso blu, la Samb non può più sbagliare, tanti messaggi dicevo su Bontà, su Fabbrini, su Paolini, su Pietro Paolo, poi li leggeremo. Cerchiamo di vedere questi giocatori uno ad uno. Cominciamo da Fabbrini, Domenico ha sostituito, titolare, non ha brillato, non ha brillato neanche a Termoli, almeno fino a quando ha giocato come attaccante. Poi dietro le tue punte, forse abbiamo visto un altro Fabbrini. Che ne pensi? Sicuramente Fabbrini, per caratteristiche, per me deve giocare dietro le due punte, assolutamente. Anche perché, anche la partita di domenica, molte volte l'ho visto andare a prendere la palla a centro campo, a cercare da due o tre giocatori, che gli fanno il fallo. Comunque, io credo che un giocatore di quelle caratteristiche, è ovvio che deve stare dietro le punte, è un giocatore comunque che si conosce, ha giocato anche in Serie A, quindi voglio dire, ha fatto sempre più o meno quel ruolo. questa è anche una cosa che secondo me bisogna rivedere, perché oltre al fatto che in linea di massima domenica ho visto una squadra comunque fisicamente non tanto bene, secondo me quello che deve fare il mister in questo momento, dove comunque mancano sette partite, non puoi più permetterti di perdere punti, io penso che la prima cosa che deve fare adesso Alessandrini è mettere i giocatori che stanno meglio, perlomeno che stanno meglio, e in più anche nei loro ruoli. Su Fabini, Fabini quando è stato preso, un piccolo, torniamo indietro, perché poi è giusto che ci arrivano anche questi messaggi, quando è stato preso a gennaio, è stato preso con l'etichetta di uomo dell'ultimo quarto d'ora, degli ultimi venti minuti, trequartista che mancava alla squadra, per cambiare modulo in corsa, il 4-3-3, passare a un 4-2-3-1, negli ultimi minuti, una cosa del genere. Esordio Attivoli, assist vincente, con l'Avezzano in casa, entra e strappa applausi per le giocate, a partite, poi contro il Vaso Girardi entra e segna, Fano si infortuna, poi gioca sempre titolare, e invece titolare non ha mai impatto granché. Fabini titolare, secondo te, a Matese, oppure, se andiamo a mettere in panchina. Purtroppo, l'assenza di Battista, ha sconvigliato tutti i piani, perché, appena arrivato, comunque Battista, stava facendo la differenza, e quindi, Fabini sostituiva Battista a fine partita, o a metà partita, e quindi spaccava la partita, se stavamo ancora in parità. Ecco, purtroppo, lo deve far giocare per forza, perché, o a meno che, gioca con le due punti dall'inizio, ma dopo non c'hai la punta, non c'è il cambio. Qualcuno, infatti, ci ha scritto, adesso, la Samba aveva Alessandro e Romerone, sono andati via, adesso avrebbero fatto molto copio, con questo modulo. Però, sulle due punte, secondo, io vi chiedo, è vero questo ragionamento? Infatti, il mio dubbio era proprio su questo motivo, che comunque abbiamo visto a Termoli, due punte, due gol. Abbiamo visto domenica scorsa, due punte, e non è arrivato il gol, ma, insomma, è arrivato il gioco, Alessandro rischierà Martigniello e Tommassini insieme, secondo te? Questo è da vedere. Lo dovremmo chiedere a lui. Io li rischierei, visto che lui, comunque, da quello che vedo, fa questo 4-3-1-2. Potrebbe anche cambiare modulo, si ipotizza, però i moduli... Dopo, casomai, l'unico problema sarebbe poi, dopo, dove collocare Senigalliesi, che comunque... Però a Termoli ha giocato come Mezzala. Però come Mezzala, magari. Che è entrato abbastanza bene. In quel caso, si tornerebbe già a un centrocampo, in quel caso, Arrigoni, Senigalliesi, e Touré, barra, Pietro Paolo. Però Pietro Paolo, come Ander, può giocare solo se Ascioti, portiere 2004, viene schierato. Oggi è stato anche l'allenamento dei portieri, non conosciamo ovviamente le caratteristiche di Ascioti, quindi non sappiamo se Alessandri lo rischierà. Invece, riguardo Sirri, capito anche, diciamo, anche lui, nell'occhio della critica, della tiposeria, molti vogliono, oggi qualcuno ha chiesto Sbardella titolare, Sbardella ha finito in panchina, Pezzola è costantemente tra i migliori, quindi è veramente un ragazzo molto interessante, Sirri magari un po' meno brillante rispetto al giro di andata, secondo voi arriverà anche a sostituire il capitano, potrebbe fare anche questo cambio, Alessandrini, o è troppo rischioso, c'è una figura importante nello spogliatoio. Il capitano... Però anche Sbardella è una figura importante nello spogliatoio, ma secondo me sono entrambi figure importanti, logicamente io adesso Pezzola non lo toglierei mai perché le ultime tre e quattro partite sono sempre migliori in campo, Sirri certo se magari una o due giornate di riposo fa giocare Sbardella potrebbe essere fattibile, sicuramente da quello che si è visto nelle ultime partite Sirri forse ha bisogno di rifiatare, diciamo, ecco, purtroppo il campionato non lo sta vincendo il campo basso, non lo sta perdendo la Samba, dispiace perché con tutte le occasioni perse potevamo stare sopra da tempo con un buon bottino di vantaggio, questo è vero, ma il tifoso lo dà ormai per perso, il campionato l'abbiamo perso perché abbiamo giocatori che non lottano per la maglia, si può vincere o perdere, ma in campo non c'è gente che lotta, quindi non mi dite che abbiamo ancora speranza, non è che noi stiamo dicendo che la Samba ha ancora speranza, nel calcio in sette partite i cinque punti sono stati recuperati tante volte, c'è anche lo scontro diretto che va dato per assodato in ipotesi Samba della vittoria, quindi ipoteticamente va dato, cioè nel senso se non vince lo scontro diretto sarebbe stiamo parlando di qualcosa di impossibile, vincendo quello scontro diretto sarebbero due punti da recuperare in sei partite, è tutto possibile, con i tre punti bastano due pareggi e l'hanno dimostrato sia il capovasso che la Samba rimontando cinque punti in due partite in entrambe le occasioni. Pietro Paolo, prima l'abbiamo accennato, questo ragazzo è arrivato un messaggio, Pietro Paolo ha giocato contro il Zoro, abbiamo fatto quattro gol nel primo tempo, a Tivoli in dieci per i primi venti di cinque minuti una grandissima Samba, poi in dieci una rimonta e abbiamo pareggiato. Poi Pietro Paolo scompasso dall'Ader, inserito negli ultimi dieci minuti a Riccione da Laura al posto di Pagliari, assist vincente. Reclamato a gran voce un po' da tutti, non vorrei che questo lato si stia mettendo troppa pressione addosso, secondo te troverà spazio Alessandrini per Pietro Paolo? Non capisco come faccia a non giocare, per esempio domenica bontà dall'inizio e poi se fa male entra Paolini, io per Pietro Paolo per me è un over, non è che è perché un under non debba giocare da over, non è che glielo impedisce, comunque sia se è stato preso a sciotti c'è anche questa possibilità di farlo giocare come under 2003 ha sciotti 2004 e quindi per me Pietro Paolo per come l'ho visto quando l'ho visto ha fatto sempre grandissime partite e la squadra come dice il presidente gioca in 11 gioca in 11 gioca in domenica anzi con Pietro Paolo giocano in 12 io stavo a Tivoli e mi ha fatto impressione stavamo in 10 ma giocavamo sembrava che giocavamo 11 contro 11 questo ragazzo tra l'altro è il ragazzo di Martinsicuro quindi respira l'aria di San Benedetto per favore basta con il politicamente corretto Massi ha fatto bene a lamentarsi lui è il presidente e deve farlo questa squadra non ha gli attributi necessari per lottare in Serie D critica Bontà Fabbrini Paolini Bontà va detto ha giocato 6 minuti domenica scorsa non era partito granché male anche questa una sorta di valedizione due partite due infortuni anche se Bontà gli esami non hanno accertato lesioni domani si allena col gruppo non sappiamo se sarà già pronto per domenica prossima comunque si è aggregato al gruppo questa comunque è una notizia importante perché è un momento in cui servono le forze di tutti Bontà ha giocato 6 minuti comunque Fabbrini e Paolini sono calciatori che per la Serie D non servono il problema di Fabbrini lo abbiamo un po' affrontato io penso che Fabbrini nel finale possa essere devastante e se deve giocare è giocare dietro le due punte come un po' successo a Termoli non so se Alessandrini proporà questo modulo qualcuno dice tornare al 4-3 ma al 4-3 lo vedo complicato per l'assenza di Battista ipoteticamente si potrebbe trovare al 4-3 con Pietro Paolo esterno però in quel caso non è che ci sarebbero i cambi per Senigalliesi ci sarebbe i cartoni Senigalliesi e Pietro Paolo non avrebbero questi cambi a disposizione sarebbe un po' rischioso c'è da dire un'altra cosa che Martigniello segna quasi tutte le domeniche Tomassini è il bomber di questa squadra privarsi di uno dei due e significa limitare molto le possibilità offensive anche se anche in quanto i giocatori diciamo i drogabisti offensivi non stanno rendendo al massimo Paolini è arrivato sapendo che un problema era guarito poi ha avuto un problema grave alla pianta del piede che lo ha tenuto bloccato evidentemente Lauro e Alessandrini che lo conosceva hanno provato a recuperarlo hanno provato a farlo a termoli domenica scorsa purtroppo la prestazione del ragazzo che tra l'altro disammetto è stata al di sotto delle aspettative è un giocatore che la nostra scorsa ha segnato 4 gol in Serie C quindi è potenzialmente un giocatore che in questa categoria si troverebbe molto bene e ci sta che è un'annata sfortunata per lui ovviamente la sostituzione solitamente un allenatore difficilmente sostituisce un giocatore subentrato a partita in corso anche se era all'inizio la sostituzione testimonia che Alessandrini si è rosa conto dello stato di forma quando è uscito Paolini è entrato Cimia poi è entrato Mbaie per Ture che era anche lui fuori ruolo quando è entrato Tomassini per Fabbrini abbiamo visto un'altra squadra questo è il segnale che può tenere aperta la speranza per Luigi era un'altra squadra abbiamo visto due squadre diverse sì sì diciamo che perlomeno siamo riusciti un po' a creare due tre palle gol poi purtroppo abbiamo sbagliate però comunque sì sicuramente quando ha rifatto il secondo cambio di Paolini si è rivisto un po' più un po' più di verve diciamo ecco poi però nel complesso secondo me domenica abbiamo fatto una bella partita non capisco perché non si possa tornare al 4-3 con Pietro Paolo esterno a sinistra quello che dicevo a Senegalisa a destra e al rientro di Cimia a Mezzala no si può tornare ci sono dei problemi questo tocca ad Alessandrini i problemi sono che in quel caso non avendo Battista sì ci sarebbe Fabbrini come alternativa a partire in corso va detto forse l'avevo dimenticato non so io in questa fase del campionato con questo modulo di Alessandrini con due attaccanti che si trovano alla perfezione e lo hanno dimostrato come Tomassini e Martiniello che sono quelli che segnano di più sinceramente insomma li proverei poi bisogna un po' far quadrare un po' anche tutto il resto ci torniamo poi su questi argomenti andiamo però a sentire cosa si dice al campo basso Fano che abbassano uno c'è anche Pier Federici del Fano che si è lanciato in un pronostico sulla vittoria del campionato nel secondo tempo forse abbiamo sofferto un po' in mezzo al campo un po' siamo così abbiamo sofferto un po' però poi diciamo che la partita è giusta così dai prendiamo questo pareggio che comunque è risultato importante in un campo difficile con una squadra che è in crescita quindi un ottimo pareggio ma non mi è piaciuto perché comunque la partita con tutti i meriti che uno può dare al Fano deve essere chiusa deve essere chiusa devi cercare di fare il secondo gol i vecchi allenatori dico quando non puoi vincere non devi perdere mettiamola così oggi va bene questo punto però un po' rammaricato nel primo tempo forse adesso un po' più tranquillo nel secondo perché poi il risultato è un risultato eco che va bene a tutte le due squadre non lo vinci la prossima domenica o fra due domeniche questo campionato lo vince alla lunga lo vince chi è più più ha usa più la testa e il cuore devi stare attento perché per le partite diventano tutte difficili questo non c'è questa grandissima differenza tra le ultime diciamo quelle che lottano per i play out e quelle e le prime come una vittoria noi avevamo la possibilità di allungare però insomma non ne facciamo un dramma sapevamo che era un campo difficile dove potevamo vincere ma l'importante è stato non perderla quello sicuramente Campobasso che ha più 5 sulla Samb secondo te quanto ha ipotecato la promozione con questo punto? sono una squadra molto forte secondo me ce la faranno alla fine meritano perché sono una squadra forte anche con basta vedere i cambi che hanno chi entra sono una squadra completa quindi penso che siano a buon punto e ci meritano di vincere questo campionato insomma Pierfredici è d'accordo con quel tifoso che scriveva la Samba perso il campionato quindi sono ovviamente opinioni naturalmente il Capobasso al momento è stra favorito per la vittoria del campionato faccio notare che è vero c'è il gol di Grandis Maldonado che è un altro centrocampista segna con abbastanza di frequente l'attacco del del Campobasso si legge su Di Nardo 9 gol non è stato mai un attaccante diciamo da 18-20 gol sempre attorno alla decina di gol comunque un attaccante solido e poi abbiamo visto Persichini che tra l'altro è stato a Samba con due reti non è un attacco così spumeggiante il Campobasso non per dare speranza ai tifosi rosso-blu però va fatta l'analisi dopo la sconfitta dell'Aquila ha vinto sei partite di fila che è il filotto più lungo di questo campionato ha vinto benissimo Senigallia 5-2 ha vinto molto bene col Sora in casa 2-0 poi ha iniziato a soffrire a Tivoli una vittoria gravata da un errore arbitrale sullo 0-0 diciamo un gol annullato a Tivoli abbastanza veramente clamorosa queste immagini sono abbastanza chiare con l'Avezzano una vittoria con grande sofferenza con tante occasioni sbagliate dall'Avezzano e questa partita di Fano insomma non sta non sembra che sia attraversato il suo momento migliore il campo basso come dire se Atene non ride Sparta piange cioè bisogna guardare anche questa cosa qui oppure la Samba deve pensare solo a se stessa penso che in questo momento la Samba deve pensare solo a se stessa certo è vero che il campo basso come hai detto tu io sinceramente delle vittorie che ha fatto quella dove mi ha impressionato che l'ho visto diciamo che ha vinto nettamente è stata quella di Sinigaglia che tra l'altro poi neanche mi aspettavo che vincesse così ma per il resto ha vinto con il Sora che comunque è stata in bassa classifica il resto le altre partite la sofferte ci dà un po' di speranza sicuramente questo però io penso che in questo momento a 5 punti 7 giornali dalla fine adesso la Samba deve pensare solo a se stessa deve pensare a fare più punti possibili e poi dopo a fine anno tiriamo le somme anche per un'eventuale corsa ai ripescaggi qualora ci fosse la possibilità sì campo basso battibile sembrava quasi un'armata invincibile questo pareggio appunto questo pareggio se ci fosse stato quel call di Martinello oggi staremmo a parlare di mettiti il dito nella piaga il dito nella piaga bisogna soffrire parlare di qualcos'altro che ne pensi? ne penso che comunque io penso che il campo basso non è una squadra ammazza campionato si è visto sia nel girone d'andata ma anche cioè è vero che ha fatto le sei vittorie che hai detto te però non è la squadra ammazza campionato come non lo era la Samba del girone d'andata all'ammazza campionato purtroppo che avevamo 5 punti di vantaggio adesso loro ce ne hanno 5 i ribaldoni ci possa il ribaldone sul ribaldone speriamo che si ripeta una notizia giro anche tra l'altro alla regia perché è appena arrivata la notizia proprio dall'ufficio stampa della Samba c'è stato un incontro al MEF al Ministero Economia e Finanza con l'onorevole Lucia Albano di San Benedetto con il sindaco Antonio Spazzafumo l'assessore ecco qui vediamo qui le foto l'assessore allo sport Cinzia Campanelli di San Benedetto il presidente della Samba Vittorio Massi per la riqualificazione dell'impianto sportivo Marcello Ciarrocchi e di altri impianti sportivi di San Benedetto del Tronto quando dice di altri impianti sportivi visto che il balla mi sembra ci siano le ruspe che lo stiano demolendo parliamo evidentemente dello stadio Riviera delle Pame ne abbiamo parlato la scorsa settimana subito dopo l'incontro all'istituto per il credito sportivo con la dottoressa Deborah Miccio che è la responsabile di direzione commerciale e marketing e il dottor Gianluca Diotalevi non ne volevo parlare poi dopo mi dico che parlo sempre di stadi di strutture perché sono un po' fissato sulla sulla patrimonializzazione della società sul fatto che avere degli impianti è vero siamo andati a meno 5 e non ci si dorme la notte i tifosi non ci hanno dormito domenica sera tantissimi non ci hanno dormito lunedì sono andato un po' a passeggio sul lungomare e tutti parlavano della salmettese era una cosa incredibile tutti che vedevano i capannelli spesso anziani perché non lavoravano e parlavano tutti di salmettese chi è andato allo stadio e chi non c'è andato però e questo ovviamente fa parte fa parte anche del nostro lavoro però evidentemente questa notizia che è appena arrivata si sta lavorando l'abbiamo parlato accennato ma si poi è svigolato anche a Riviera delle Palme il Cerrocchi 30 anni per il Cerrocchi si sta parlando del Samba Village a fare un altro centro sportivo per le giovani del Samba Village con un centro di abitazione cercare di avere il Riviera per 30 anni insomma questa è una prospettiva di medio e lungo periodo che non va buttata nel calderone della contestazione per il risultato insieme a tutto il resto credo che sia una cosa molto molto importante da capire insomma ci sono notizie interessanti torniamo a Campobasso e Samba facciamo un po' il confronto tra i calendari delle due squadre anche se è vero quello che dice Pergolizzi su questo sono d'accordo a questo punto della stagione andare a Matese o andare all'Aquila cambia cambia poco insomma non è non è le motivazioni sono tali che insomma il calendario è giusto guardarlo però Samba va appunto a Pedimonte e Matese 250 biglietti disponibili Capobasso ospita il basso Girardi poi va a Fossombrone la Samba ospita al Chieti questa è il giovedì prima di Pasqua si riprende il 7 va a Riccione il Capobasso ospita a Riccione la Samba all'Aquila il 14 lo scontro diretto poi la sfida della Samba con l'Atletico Ascoli qui ci sarà da capire dove si gioca come si gioca Capobasso ospita il notaresco e chissà che il notaresco non possa fare qualche scherzetto poi va a Chiedi Capobasso e finisce nel derby col Termoni la Samba le ultime due Roma City e Svigor Senigallia che potrebbero essere più abbordabili quelle che sembra in questo momento perché può darsi che diciamo quelle squadre a fine stagione siano un po' demotivate un altro punto però molto interessante che i due gol presi con il notaresco fanno riflettere è proprio quello dei minuti fatali cioè la Samba ha preso 12 gol sul 27 cioè un buon 40% negli ultimi minuti a Sora risultato acquisito con l'Avezzano sul 2-1 poi col Termoni sempre risultato acquisito col Chieti il gol di spalla avambraccio non so come dire di falla al 95esimo a Capobasso il gol di Persichini all'84esimo con la Tatico Ascol due gol ravvicinati con la Vigor sempre due gol decisivi con Riccioli all'84esimo poi lì c'è stato lo scatto della Samba che con Sbardella si è andato al 94esimo e notaresco di nuovo due gol a cavallo del 90esimo come ve lo spiegate Giacomo io direi che è più una casualità anche se quando una cosa si ripete molte volte fa pensare certo che fa pensare però vedendo le partite comunque forse a Campobasso è quello che è rimasto un po' più diciamo è quello che ha veramente fatto la differenza quel gol ormai a partita che sembrava in controllo come diceva il mister Lauro e lo era e lo era è stato l'unico tiro in porta del Campobasso Fulmine al Ciel Sereno quello purtroppo ha indirizzato il campionato in un'altra direzione a noi sfavorevole che ne pensi di questo calendario è più difficile quello della Samba secondo te o secondo me è difficile per entrambi perché da quello che vedo le gare sono insidiose sia per noi che per loro non vedo tutte queste grosse differenze poi dopo certo mano a mano che arriviamo alle ultime giornate come hai detto tu poi dopo lì magari cominciano a starci le squadre che non hanno più motivazione il discorso cambia però penso che da qui allo scontro diretto forse Campobasso che c'è il vasto Girardi però per il resto da voi c'è forse Brunese e Riccione che comunque sono due buone squadre noi domenica incontriamo l'ultima poi abbiamo Chieti e l'Aquila che sono tutte e due care secondo me sarà tosse anche con i Chieti perché comunque domenica scorsa ha vinto quindi si sta riprendendo quindi è una lotta l'importante è che il ministro Alessandrini come hai detto prima io penso ipotizzo che anche con le sostituzioni gli infortunati ipotizzo che gli uomini tornino in tutto il loro posto è quasi obbligata la questione mettere se gli inglesi fuori ruolo mettere Tureco era un po' troppo esterno cioè se gioca deve giocare come incontrista se non torna Pietro Paolo con la sciotti questa è una valutazione che deve fare il mister con la società Scimia che quando è entrato comunque è un uomo che presta avere un centrocampo gente che corre molto può aiutare tantissimo qui vediamo Alessandrini all'allenamento con Pagliari cioè la Samba deve fare la Samba innanzitutto per lo meno mettere i giocatori che stanno meglio che secondo me in questo momento è fondamentale perché comunque Scimia ma anche Pietro Paolo io Pietro Paolo se fosse per me lo farei giocare anche come over perché comunque per quel poco che ho visto ho visto un buon giocatore poi vedremo come secondo me sta anche bene fisicamente quindi in questo momento abbiamo bisogno anche di questo io mi è arrivato un messaggio chiedendo come andranno avanti le cose diciamo playoff allora questo è un un orizzonte diciamo a momento lontano perché comunque al di là al di là di quello che scrive qualche tifoso che ha detto il giocatore del Fano il campionato in questo momento è aperto a qualsiasi soluzione col campo basso ovviamente molto favorito ma anche se non si dovesse vincere il campionato io credo che l'ambiente sarebbe in grado di assimilare questa delusione ma delusione relativa e ripartire ma c'è anche appunto la questione playoff ripescaggi l'anno scorso dalla Serie D è stata ripescata la casertana quindi è qualcosa da potersi giocare come funziona quest'anno mentre gli altri anni i playoff come quando la Samba l'ha vinto due anni fa da quinta ha dovuto giocare due partite fuori casa ha vinto due partite fuori casa e ha vinto il playoff a quel punto si lava la classifica delle nove squadre vincitrici classifica in Serie D sulla base essenzialmente della media punti durante il campionato quest'anno si tornerà a una fase di playoff del girone e poi le nove vincenze si sfideranno in gironi diciamo nazionali con tre gironi da tre con semifinali poi e finali con la vincente non ci sono non c'è un documento della della federazione riguardanti i criteri del eventuale ripescaggio mentre ho visto quello dell'anno scorso il 30 maggio 2023 la FGC si diranno i criteri per il ripescaggio che si basavano sulla media punteggio del girone facendo un conto sulla media punteggio del girone c'è il Siracusa che è staccatissimo da tutti gli altri ecco qui vediamo il Siracusa è primo con una media di 2,37 nel girone del Trapani che è straprimo quindi evidentemente è anche un girone non dico abbastanza debole nel senso le prime 2 hanno tantissimi punti il Trapani ha già quasi a punteggio pieno poi ci sono diverse squadre tra cui Samba che adesso è scesa dopo la sconfitta pianese Forlì Dolomiti Bellunesi che sono quasi appaiate 1,93 1,92 però non sappiamo se sarà questo il criterio potrebbe essere che chi vince i playoff nazionali sarà la prima ripescata della serie D potrebbe essere un punteggio aggiuntivo a questi questo al momento non è scritto però è un percorso da fare anche perché comunque i playoff in caso negativo sono sempre una palestra per la formazione che arriva come fu per la squadra di Palladini sono sempre una palestra per la formazione dell'anno dopo comunque allora leggiamo altri messaggi scusate sono arrivati tantissimi il capobasso si ha fatto 5 vittorie consecutive non 6 si ha ragione infatti aveva sbagliato il conto purtroppo il pessimismo non è legato ai 5 punti di ritardo del campo basso ma alle condizioni psicofisiche della squadra il cambiandatore pensavo potesse rivigorire alcuni elementi che magari erano un po' ai margini di solito accade la sfogazione il presidente è comprensibile ma inopportuna non è una questione di modulo la squadra non è più coesa come lo era prima e in campo si vede può darsi però è vero però se noi togliamo quei giocatori che non sono in forma e mettiamo Scimia Pietro Paolo e Tommassini la partita di domenica scorsa adesso Pietro Paolo non vorrei caricarlo però Scimia l'abbiamo visto Tommassini l'abbiamo visto è cambiata attualmente la partita abbiamo regato 60 minuti a Termoli e 60 minuti anche domenica scorsa bisogna continuare a crederci ragazzi lasciate gli sprezi fuori da spogliatoio saluti giusto prendiamo gol negli ultimi minuti perché in serie di si corre noi passeggiamo se 5 sostituzioni le devi fare perché alla fine sono tutti spompati la gente fresca fa la differenza Riccione che l'abbiamo ripresa alla fine guarda caso c'era uno che corre indovinate chi Pietro Paolo anche l'altra partita risolta per questa fine Martina le Battista entrate a poco e affamati scrive Gianni Farina questo è vero era la principale critica che abbiamo rivolto fino a Natale a Lauro che era molto stitico nelle sostituzioni la Vigo la Senigale ce lo insegna cambi fatti la Samba ne faceva 2-3 giocatori freschi la Samba col vaso Girardi gol di Battista e Martigniello a Riccione assist di Pietro Paolo per Sbardella subentrati a Tivoli assist di Fabbrini per Martigniello subentrati quindi i subentrati sono sempre fondamentali nelle ultime partite i 5 campi sono stati fatti però ci siamo ricaduti domenica scorsa in questi gol nel finale qui una formazione Coco Pagliari Siris Bardella Zovoletti Pietro Paolo Touré Arrigoni Seligallesi Tomassini e Martigniello è una sorta di 4-2 4 vabbè una formazione un po' un po' ardita ho sempre sostenuto questa squadra e spesso non mi sono trovato d'accordo con le contestazioni della tifoseria ma una cosa è certa la cattiveria e la lotto ultimamente è venuto a mancare solo chi ha fame di vittoria porterà la gloria a questo campionato Erri giusto mi ero scordato di dirlo il Siracusa non può essere ripescato in quanto questo anno ha avuto una penalizzazione però attenzione è una penalizzazione non per mancati pagamenti ma per intemperanze dei tifosi adesso non conosco dovevo dire mi sono scordato non conosco infatti avevamo messo pure un punto diciamo un asterisco non conosco bene il regolamento del ripescaggio per queste soluzioni se fosse un mancato pagamento sicuramente il ripescaggio sarebbe impossibile per un'intemperanza dei tifosi adesso è stato di corso c'è un punto interrogativo però bisognerà vedere poi come vanno i playoff vediamo il prossimo turno prossimo turno appunto Ascola Vezzano Capobasso Passo Girardi Chieto Riccione Matese Samba L'Acqua Forsepponese Montrotondo Tivoli Roma City Sora Termoli L'Aresco Vigoro Senigallia Fano cosa vi aspettate per Luigi? Io ovviamente per la Sambi io mi aspetto una vittoria Capobasso vedi una facile vittoria con Passo Girardi? Sulla carta sì poi ovviamente la palla è rotonda da tifoso spero di no però effettivamente sulla carta è il campo basta una partita che può vincere Giacomo Valentini? Il Passo Girardi comunque ci ha fatto soffrire qualche domenica fa abbiamo vinto 3-0 ma abbiamo segnato diciamo portato in porto la partita negli ultimi minuti è un derby per loro è un derby speriamo che vadano con diciamo lo spirito combattivo mentre scusate nel Mattese è squalificato l'ESI che è un esterno 2005 quindi non giocherà la partita con la Sambi bene io vi ringrazio per la vostra presenza tra poco spederemo il settore giovanile come d'abitudine ovviamente i messaggi sono arrivati da tanti altri che non sono riusciti a leggere ma abbiamo cercato di dare spazio un po' a tutte le opinioni poi torneremo qui magari domenica sera a ricommentare le vicende sportive con grande con grande serenità senza con tanta passione ma anche con tanta serenità perché è giusto come diceva Giacomo Valentini stiamo parlando di calcio non di fiduzioni se posso dire quell'immagine che abbiamo visto di Roma quello è l'immagine fondamentale è l'inizio di un percorso sono discorsi pluriennali che iniziano e quindi non è che ci possiamo far diciamo buttare il bambino con l'acqua insieme all'acqua sporca per tre centimetri che la palla va sulla traversa esatto esatto parole molto sagge quell'immagine con cui la Samba a Roma al credito sportivo ovviamente si sta lavorando non si cita ma si sta lavorando anche per qualcuno si sa la pazienza è finita però bisogna nella vita bisogna avere bisogna avere pazienza purtroppo la pazienza non può finire non può finire mai d'accordo ci rivedremo magari nel proseguo del campionato magari commentando qualche risultato più positivo fra poco spazio al settore giovanile ed eccoci tornati in diretta spazio al settore giovanile come di consueto tutti i martedì una finestra per il settore giovanile perché bisogna riprendere quel discorso che tra l'altro avevamo affrontato proprio in chiusura della prima parte della trasmissione la prospettiva di medio e lungo periodo quindi non soltanto ovviamente la questione sportiva che seguiamo dettagliatamente ma anche le prospettive che ci saranno fra qualche anno attorno alla samba diciamo tutto quello che ruota attorno alla patrimonializzazione del club alla sua valorizzazione e il settore giovanile ovviamente è uno degli aspetti fondamentali abbiamo con noi Renato Mannocchi allenatore dei giovanissimi 2010 e tre giovani del 2010 che io adesso invito intanto a presentarsi nome e cognome e ruolo mi chiamo Angelo Fanno e faccio il difensore centrale io mi chiamo Cristian Bolzan e faccio il centrocampista io mi chiamo Davide Di Bari e faccio il portiere ok andiamo con l'allenatore e poi torneremo dai ragazzi questi ragazzi come sta andando la loro benissimo tutto quanto secondo i piani secondo il programma crescono quindi bene loro hanno 14 13 14 anni si giovanissimi si divide i giovanissimi si divide in due annate 2009 poi qui c'è Bolzan che è 2011 quindi tutto quanto secondo fine settimana che tra l'altro abbiamo anche la schermata con alcune foto e con i risultati del settore giovanile e che abbiamo anche i primi calci i primi calci del punto di Luca Balletta stiamo a fine settimana comunque con risultati più che positivi da parte del settore giovanile con vittorie anche molto molto roboanti qui vediamo l'immagine a Civitanova degli allievi se non erro allenare ragazzi di 13 14 anni cosa comporta dal punto di vista proprio psicofisico non sono più bambini non sono però ancora adulti che tipo di approccio bisogna tenere? allora l'approccio è quello che fondamentalmente allora io seguo un programma nel senso passano da gli esordienti quindi a giocare a 9 con un pallone a 4 quindi di dimensioni diverse a un campo a 11 con il pallone che chiaramente passa da 4 a 5 quindi insomma il calcio il calcio dei grandi da 4 a 5 che segna il peso le dimensioni è un pallone diverso quello che gioca i bambini quindi loro giocano col pallone degli adulti classico sì 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 classico anche perché dal 2010 da quest'anno e quindi abbiamo eseguito il programma per me la cosa più importante è che loro imparano a stare in mezzo al campo e comunque non perdere il fatto di divertirsi perché per me è la cosa importante col divertimento c'è apprendimento certo chiedo intanto andiamo proprio dai ragazzi vi chiedo chi sono i vostri giocatori preferiti sia a livello generale che nella samb vi chiedo anche come riuscite a coniugare l'attività sportiva con lo studio quindi magari quale scuola frequentate se siete di San Benedetto oppure di fuori quindi fate anche degli spostamenti per allenarvi allora iniziando da giocare con Ispiro e i miei preferiti sono Kim e della Samba Sicli e poi riesco a integrare lo studio facendo i compiti prima di allenamento e frequento lo scientifico a San Benedetto sei di San Benedetto? no di Porto d'Ascola ah vabbè vabbè ci siamo qui in zona Bolsa? io il mio giocatore preferito è Messi mentre della Samba mi piace molto Moussa Touré e io penso che la scuola sia al primo posto e poi il calcio è una cosa secondaria che però mi piace molto fare io mi ispiro a Ramsdale dell'Arsenal ma anche mi piace anche Coco della Samba e comunque riesco a organizzarmi i compiti è un potere sì sì riesco a organizzarmi i compiti prima di allenamento facendola anche il giorno prima e faccio la terza media a San Benedetto agli Sacconi terza media ma già fisicamente siamo quasi sull'180 quindi penso che potresti arrivare quasi a due metri in realtà un portiere come visto che sei portiere non ho avuto finora tanti portieri mi capito veramente come sei diventato un portiere un ruolo particolare a volte qualcuno sceglie di essere portiere a volte capita che uno viene messo a porta e poi scopre di essere un nuovo portiere a te come è nata questa cosa? giocavo in una squadra vicino a casa mia e diciamo tutti i ruoli che avevo provato non mi era mai piaciuto da piccolo e allora l'ultimo che mi era rimasto era il portiere e quando l'ho fatto le prime volte mi divertiva molto tuffarmi e da lì sono rimasto in porta ti piace ti piace sei un po' spericolato nelle uscite eh sì ogni tanto sì i portieri sono tutti un po' sì sì rigori come te la cavi con i rigori? eh devi imparare ancora ancora li devo parare sono capitati poche volte però spero che per fine anno un rigore riesco a pararlo come funziona funzionano i loro allenamenti un ragazzo dei giovanissimi quante volte si allena a settimana? tre volte a settimana più c'è la partita quindi c'è quattro pomeriggi un paio d'ore un'ora e mezzo un'ora e mezzo d'allenamento e poi c'è la partita che tipo di torneo è quello a cui partecipate? è un campionato classico a 13 squadre dove regionale? no è provinciale quindi domenica in domenica sì poi ci sono anche i tornei si fanno anche sì tornei a fine anno vediamo se magari ci sarà la possibilità di farne qualcuno vi piace? chiedo al centrocampista al nostro Mussaturei vi piace perché tu hai quelle caratteristiche di incontrista di ruby balla come Turei giusto? piacciono più il campionato oppure il torneo quale vi piace di più? a me campionato ti piace la lunga durata? sì esatto non due o tre giorni di incontri invece il ragazzo che si ispirava a Kim e Sir difensore centrale che io ti sono vicino perché anche io ero un difensore centrale quindi capisco come è arrivata invece la tua scelta di essere difensore centrale? allora in realtà io il mio ruolo sarebbe terzino però il mister in un amichevole ha scelto di mettermi difensore centrale e da lì ha visto che funzionava e anche io mi trovo bene e quindi sono rimasto per quanto riguarda l'organizzazione complessiva invece del settore giovanile c'è apparentemente un allenatore per ogni anno voi di 2010 un allenatore e poi di 2009 un allenatore quindi siete comunque molto numerosi come poi riuscite a coordinarvi tra di voi? c'è uno specchietto dove tutti quanti ci alleniamo in un determinato giorno orario e quindi ci organizziamo di conseguenza si riesce a fare un po' tutto a Ciarrocchi come vi trovate ragazzi? io ho bene perché è anche vicino a casa mia quindi puoi andare anche a piedi? sì perfetto gli altri perché è un ambiente sicuro familiare cioè mi sembra che sia diventando la Samba ha avuto per tanti anni il problema dei campi di allenamento per il settore giovanile si andava un po' ad affittare i campi negli intorni Martinsicuro Monteprandone anche a San Benedetto avere una casa un posto dove ci sia sempre tutti anche vi facilita magari i genitori vi lasciano anche allenarvi in tranquillità giusto? sì esatto io al Ciarrocchi mi trovo benissimo sin da piccolo perché prima di giocare alla Samb io giocavo al Porto d'Ascoli e il Porto d'Ascoli aveva come campo il Ciarrocchi e io mi sono trovato benissimo sin da piccolo sapete che probabilmente si faranno degli interventi al Ciarrocchi abbiamo proprio fatto vedere poco fa un'immagine del Presidente Massi con altri diciamo a Roma per il Ciarrocchi con anche esponenti del Comune ma anche forse per l'Italia dei Parmi quindi sarà ulteriormente migliorato io sì pure mi trovo bene al Ciarrocchi perché è un ambiente comunque come aveva detto lei familiare quindi ci troviamo molto bene tutti penso comunque ci alleniamo con serenità e questo penso è l'importante molto disinvolti con il microfono ormai questa è una generazione che diciamo con la tecnologia con i video ci sa fare quotidianamente domenica eravate allo stadio? sì io ero a fare il raccattapalle ah il raccattapalle che sensazioni hai avuto da vicino vedendo i giocatori? eh vabbè si vedeva comunque che c'era un'area molto triste delusa però alla fine comunque è mancato ancora 8-7 8 partite 7 partite quindi ancora la speranza c'è ovviamente è stata brutta sconfitta però ci abbiamo adesso resta la partita di domenica bene no io non ci stavo però la partita prima era andato e a fare sempre il raccattapalle come Davide e hanno pareggiato quindi non la vittoria vediamo difensore no neanche io ci sono andato però in realtà non ci sono mai andato allo stadio però voglio andarci è tempo adesso è primavera la prossima volta si fa anche perché arrivano gli scontri quelli importanti bene concludiamo qui io ovviamente vi ringrazio ringrazio Renato Mannocchi ringrazio Maurizio Tancredi che collabora per le ospitate qui a Ritmo di Samba siamo in chiusura ringrazio in regia Domenico Del Sompo e Enrico Tassotti ringrazio Michele Natalini della tradizione sportiva Stefano Bartemi per il montaggio la trasmissione attorno alla mezzanotte sarà sarà poi possibile vederla in differita domani invece in digitale su YouTube la pagina YouTube di Vera TV sulle pagine social Facebook di Vera TV e su veratv.it prossimo appuntamento come sempre domenica alle ore 20 in diretta con Cuore di Calcio sperando di poter dare notizie positive per i colori rosso-blu mostreremo le partite in programma domenica prossima poi martedì prossimo torniamo con Ritmo di Samba alle ore 20 in diretta buona serata da Pierpaolo Flammino questo programma è presentato da Arena Mia Arredamenti Pavi System Sambao Brazilian Sushi Quirino Gabrielli Big Mat Per Te Assicurazioni Agenzia Top Unipol 6 Unipol 6 Grazie a tutti.